In un momento di fare un'offerta, si sono tirati indietro. Indovina chi porta la protesi. Ha indovinato chi? Con Cookie Dent non si nota la differenza, perché dà una tenuta dieci volte più forte alla tua protesi. Cookie Dent, bello mordere la vita. Muscoli a quattro ruote speciale, in prima TV assoluta. Domani alle 22.15 su Motor Trend, canale 59. A Natale, vi scaldiamo con una settimana di motori roventi. Ormai ci siamo. Christmas Turbo Week, in prima TV assoluta. Dal 18 al 24 dicembre, dalle 22.15 su Motor Trend, canale 59. DR 4.0, full optional di serie con cinque anni di garanzia. Incredibile Formula Zero, interessi zero, anticipo zero, maxirata zero. E tu hai in sole 60 rate da 339 euro. E a dicembre, Formula Zero su tutta la gamma DR. Ai sognatori, a chi cerca il piacere, a chi sa cogliere il momento e goderselo. A voi che sapete trovare il lato straordinario della vita. Una nocciola intera e un morbido ripieno, in uno scrigno croccante, con granella e cioccolato, in un prezioso incarto dorato. Ferrero Rocher, accendi l'oro che in te. Da Uni Euro ci sono tutti i regali che vuoi. La nuova lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con vasca extra capiente, con il 10% di spazio in più. E tu hai 699 euro, perché Uni Euro batte forte, sempre. Ba, ba. Che gusto avrebbe il Natale, se ci ammorbidissimo un po'? Bauli, scegli la morbidezza. Ba, 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 ba. Leo detesta rimanere a casa, ma Sara ha trovato il regalo perfetto per lui su Amazon, con le offerte dell'ultimo minuto ed altro. E ora, con l'equipaggiamento giusto, Leo è il re delle piste. Condividi la gioia su Amazon, con offerte dell'ultimo minuto ed altro. Alice aveva 11 anni, sarebbero affacciate a poco le richieste di uscire, di rientrare tardi. I genitori di Alice si preparavano alle prime volte di un'adolescenza come tante. Invece sono arrivati i primi sintomi della sclerosi multipla. Lo shock, perché vederti tua figlia che ti dicono che ha questa patologia. La sclerosi multipla è una malattia degenerativa di cui Alice soffrirà per tutta la vita. Chiama l'800-19-7345 o vai su aism.tv. Con 9 euro al mese aiuterai la ricerca a trovare la cura risolutiva. I miei coetanei aspettavano il sabato perché facevano le loro prime uscite. Per me era il giorno nero perché ero piegata dal dolore della terapia. Oggi Alice ha una vita migliore, ma se la ricerca non farà nuovi passi avanti, perderà il suo futuro, come ha già perso il suo passato. Il pomeriggio andavo ad allenarmi, facevo basket. Era tutto quello che avevo. Aiutaci a fermare la progressione della disabilità che minaccia il futuro di Alice e di migliaia di persone come lei. Diventa donatore regolare. Chiama l'800-19-7345 o vai su aism.tv e dona 9 euro al mese. Con un desiderio adesso sarebbe guarire. Chiama l'800-19-7345 o vai su aism.tv. Darai a tante prime volte una seconda possibilità. Il tuo amico a quattro zampe è scappato? Con Tractive trovarlo un gioco da ragazzi. Tractive, il GPS per il benessere e la sicurezza del tuo amico a quattro zampe. Ora al 30% di sconto. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? In modo facile e veloce online? Inserisci i dettagli della tua auto su NoiCompriamoAuto.it Non ti daremo solo una stima, ma il prezzo di vendita. E dopo un breve check in filiale potrai venderci la tua auto. Scopri il tuo prezzo ora su NoiCompriamoAuto.it Dov'è il Natale? È dove c'è qualcuno che ti conosce da sempre. È dove c'è qualcuno che sa cosa ti piace. È dove c'è qualcuno al tuo fianco che sa sempre come sorprenderti. Proprio come noi facciamo con te. Natale è qui. A Natale Win 3 sa come renderti felice. Regalati uno smartphone 5G a 0 euro al mese. E in più hai giga illimitati. Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei Win 3 Store. Ma buon Natale ve l'ho già detto. Win 3. Connessioni. Energia. Assicurazioni. Mi chiamo Tommy Pike. Restauro automobili da quando ero piccolo. Benvenuti nella mia officina. Custom Carolina. Grandi, grosse e cattive. Una nuova serie in prima tv assoluta. Da mercoledì 20 dicembre alle 22.15 su Motor Trend. Canale 59. Parliamo di affari? D'accordo. Bene. Elaboreremo l'auto di John Cena. Quindi non... ... ... ... ... ... Grazie per la visione!